La contraddizione anche un po' di cui è stata evidenziata, in cui adesso siamo un po' di capitale in cappa nel senso che è difficile al momento, se non impossibile, che si possa mantenere quella promessa del self-made man, del farsi da sé, dell'ascensore sociale all'università. Poi di fatto tantissime sappiamo, stando dentro l'università, ma anche credo a partire dalle nostre esperienze, che tanti ormai si iscrivono proprio per puro piacere, perché non credono minimamente nella possibilità di effettivamente poi avere degli sbocchi, perché anche la disillusione di cui si parlava prima è molto concreta. Osservare appunto il modello ci dà anche un indizio su come dall'alto si sta anche rispondendo un po' sembrerebbe a questa fase, nel senso che il cambio di retorica è abbastanza netto. Dall'austerità, dalle bacchettate sulle mani di qualche tempo fa, adesso c'è lo sviluppo, la barchetta di cui tutti quanti tiriamo i reni insieme e verso cui comunque bisogna stringere i denti, sì si stringono, ma col sorriso, perché tanto se continuiamo a remare, prima o poi da qualche parte arriveremo.